ragazzi è uscito è uscito ok io l'ho già provato un attimo mi sembra bello vabbè ovviamente è uscito solo un capitolo ok vediamo cos'è questo capitolo questo libro 2 di pig cosa ci ho messo per noi una chiave bianca prendiamolo che è la chiave bianca sappiamo che possiamo uscire con questa chiave questo direi di prenderlo ok troviamo l'uscita però perché non sappiamo dove è l'uscita chiave rossa è bellissimo vabbè questo è il capitolo 1 non sappiamo esci non esci ah no un attimo ah ecco oh no ma l'ho dimenticato che non importa se si aprono premendo insomma dov'è l'uscita che non lo trovo no no c'è un tizio brutto no vaffanculo mi ammazzato no 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 mi ammazzato vai 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 si facciamo play perché vuoi essere io aspecchie si sono io madonna si raga sono io ok forse l'entro ok se sentirete le voci ignoratele ok raga la mia skin da robot assassino raga questa è la mia vecchia skin del mio vecchio cellulare questo robot assassino è fighissimo ok ed entra pigi ok raga ok credo che ci sono aggiunti nuove skin possiamo usare intanto cerchiamo delle robe personaggi vabbè i giocatori players ecco per ammazzarli dove si saranno cacciati intanto metto una bella trappola qua qua c'è qualcuno non c'è nessuno ok direi di mettere anche una trappola qua ma ciao no tu non mi scappi no 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 è scappato via raga vabbè trovati due al massimo vieni come è possibile riesco a beccarle una fai che troppo glitchiato vabbè a pensare quel robot era più velo sì vabbè mi minchia qua non avete posti per scappare dai 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 basta stai stanchando raga raga oh allò dai prova a scappare adesso ma vabbè ma vabbè la vita si dai 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 morta oh al massimo ne ho ucciso uno ok vediamo se non riusciamo a uccidere altri vabbè sono stato il primo cane puliziotto della storia ho ammazzato tu qua pensa che sono stupido è scemo dai come è scemo sto qua ma moriva ma pensavo che non ti vedevo raga ne ho trovato un'altra vittima vieni vieni scappi una trappola qua ciao murta game over ho vinto io se il robot ha vinto ok ah era era glicciato raga se sentite i rumori è mia sorella che sto prendendo una cosa ok ok vediamo proviamo a scappare stavolta che che avarancione che sta svegliato e prendila oh alleluia tanto ragazzi io sono michael jackson in verta no angelo dai angelo angelo quello che è dai tu sei tu sei un angelo non mi puoi fare sta roba non me lo puoi fare tu sei un angelo è un angelo quello che è ok por cazzo vado no raga ma vaffanculo angelo un cazzo ma chi è angelo ma madre un angelo ok ragazzi io direi di fare un ultimo tentativo e dopo chiudo il video oh se ci riesco ci riesco se non ci riesco ciao ok vediamo andiamo a questa parte ho preso la chiave rossa che qua si può aprire ok e tolgio i miei fratelli e a bè e a bè vuoi aprire tengo i miei fratelli ma apri o a bè no raga aiutate vi prego Allora, se scrivete qua Fratelli rompi Scrivete fratelli Hashtag fratelli Allora, scrivete Hashtag fratelli rompi Puntini puntini Ragazzi Se chi lo scriverà I primi tre che scriveranno Verranno salutati al prossimo video Ma dove si Si mette la yellow key La yellow key si mette in una cassaforte Ma qua, dove, non c'è Non c'è niente Un attimo Ok, vabbè, questa è l'ultima partita Per forza Devo anche andare a mangiare Dove si mette la yellow key Madonna, raga Piccuno era Più semplice No, 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 no Mi sono incastrato Sono rincoglionito Ciao, addio vabbè ragazzi vediamo al prossimo episodio ciao